Donatas Ionicas, pochi chilometri tra la Spezia e Sarzana, ma forse la distanza tra una Tarros e una Sarzana, tua nuova destinazione, potrebbe essere un po' di più. Ci vorrà un po' di ambientamento, un po' di carburazione o che altro? Parla un po' tu. Sarà sicuramente un derby, sarà sicuramente una partita tosta, penso che Spezia farà una bella squadra, conoscendo Caluri sicuramente c'è a programma qualcosa di squadra forte, cerchiamo di essere più forti noi e poi se vince è migliore. Sono molto contento di essere qua quest'anno, sono contento del gruppo che ho trovato e spero di essere molto utile a quello che dobbiamo fare quest'anno, visto che le basi ci sono già, un bel gruppo di ragazzi più un allenatore che abbiamo già trovato grandissima sintonia e speriamo di fare un passettino avanti rispetto a quello che abbiamo fatto. che hanno fatto loro l'anno scorso. Felicissimo di essere venuto in questa squadra perché già dal primo allenamento che abbiamo fatto a luglio, così diciamo di prova, è stato subito una bella impressione, mi ha dato un ambiente abbastanza serio, più che serio anzi aggiungerei. La squadra è ottima, abbiamo tutte le carte in regola per fare un buon campionato e divertirci insieme.